La Chiesa considera le persone malate come una via privilegiata per incontrare Cristo, per accoglierlo e servirlo. Il malato è la carne di Cristo. Lo ha ricordato Papa Francesco prima della preghiera dell'Angelus, recitata insieme a decine di migliaia di pellegrini raccolti in piazza San Pietro. Ciascuno di noi è chiamato a portare la luce della parola di Dio e la forza della grazia a coloro che soffrono e a quanti le assistono, familiari, medici, infermieri, perché il servizio al malato sia compiuto sempre con più umanità, con dedizione generosa, con amore evangelico, con tenerezza. La Chiesa Madre, tramite le nostre mani, carezza le nostre sofferenze e cura le nostre ferite, e lo fa con tenerezza di madre. Commentando il Vangelo del giorno e le guarigioni di Gesù, a partire dalla suocera di Pietro, il Papa ha sottolineato che Cristo, con la predicazione, annuncia il regno di Dio e con le guarigioni dimostra che questo regno è vicino. Così si rivela medico sia delle anime sia dei corpi. Nel ricordare la vicina giornata mondiale del malato, che la Chiesa celebra mercoledì 11 febbraio, memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes, Papa Francesco ha chiesto di pregare per l'arcivescovo polacco Zimowski, presidente del Pontificio Consiglio per gli operatori sanitari, che ha preparato questa giornata, ora molto malato, che ci accompagna, ha detto, dalla sua sofferenza.